Il Movimento 5 Stelle è compatto con il Presidente Giuseppe Conte. Il Paese in questo momento ha bisogno di stabilità e continuità. I cittadini italiani stanno aspettando la cassa integrazione, il ristori e il Paese il rilancio attraverso i recovery plan. Questo è veramente il momento di essere costruttori e non c'è spazio per egoismi personali.